eccoci qua e la sto facendo vedere anche da fuori sicuramente su quel terrazzino ogni tanto alberto sordi ci sarà affacciato questa villa questa villa è stata vinta da alberto sordi a fior di milioni sul suo più grande amico o uno dei suoi più grandi amici vittorio de siga adesso so perché alberto sordi amava questo posto ed è venuto a vivere qui ma guardate che spettacolo il cuore di roma oggi sono qui perché ho voluto esaudire le richieste di alcuni followers della pagina che avrebbero avuto piacere di poter vedere questa villa e quindi spero con questi video e con questo giro di averli fatti contenti